Buongiorno a tutti i ragazzi, oggi noi ci riusciamo, finalmente è un gioco gratis. Quindi oggi, il video di oggi sarà solamente il gioco, il gioco e il gioco. Vai andiamo! Ma non si appunti, è questo qua, va sotto la cadellina Lo vediamo la cosa Ah, come te siete ragazzi, sto rischiando qua Guarda il mio Rusia, non c'è ma c'è niente E' qua, chi mi prende? Non mi fai un po' città, non mi fai un po' Ma proprio il cavallo, non ti vorrei sentire un punto a me Devo ricostruire il cavallo, il cavallo, non mi fai un po' Ma comunque nel disco, il suo compagno è, ok, con te Ma quando l'ho arrivato, io ho di più, poi c'è quello che ho sbagliato Sì, 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 sì Sì, sì, sì Sì, sì, sì Sì, sì, sì Sì, sì Sì, sì 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 C'era Quello moce deve essere quel palo di… Segui 18 Sì, poi si è santi Vai Vai, super tanto bene, che è andato a poter E' andato a poter, e' andato a poter, e' andato a poter Posta manca, è finito, però eh Ah, non è giusto, non è possibile, non è possibile, non è possibile. me no m ho oh 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 ok i i Noi, ci sono le ragazze, non lo scusate, non lo scusate, non lo scusate. Noi, non lo scusate, non lo scusate, non lo scusate. No, non lo scusate, qualcuno è il suo rinforzo, che cazzo è lui? Ma qualcuno è il suo rinforzo, mi fa cagliere solo. Mi ha dato un po' di ruolo, eh? C'è ne dico mezza. a i 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